Come commenta questa partita? Mi sembra facile il commento, è un momento che non ce la facciamo, non finalizziamo, non finalizziamo. Il primo tempo oggi non aver finalizzato, se poi pareggi è colpa tua. Domenia scorsa l'abbiamo rimediata un po' dalla fine, oggi purtroppo non ce l'abbiamo fatta, ma se non miglioriamo nella fase realizzativa è chiaro, comunque complimenti a loro perché hanno fatto una buonissima gara, una squadra che gioca, non a caso ha dimostrato che non aveva mai perso, però indubbiamente con quello che abbiamo proposto oggi abbiamo creato, debbiamo concretizzare. Qualcosa di più sicuramente si poteva fare e soprattutto si continua a vedere anche qualcosa che manca proprio da chi è davanti, dalle punte. Ma io non voglio dire punte, centrompisti, difensori, anche oggi per l'ennesima volta abbiamo battuto dieci arci d'angoli, lì ci sono anche difensori e non ci è riuscito a fare niente nemmeno oggi. Se non miglioriamo su questo aspetto è dura. Probabilmente oggi anche mancavano dei perni centrali, ad esempio anche come Castiglia, Damiani che fino ad ora hanno fatto un ottimo campionato e sicuramente anche questo magari è inciso. Ma infortuni ci sono, non mi attacco certamente all'assenza, i sostituti hanno fatto il loro dovere, credo che sia un discorso di squadra, anche domenica scorsa, domenica prima c'erano loro, eppure abbiamo risolto i partiti come oggi a po' dalla fine, sia Flaminia sui Seravezza, oggi non ce l'abbiamo fatta ma mi sembra che sia l'ennesima risultanza chiara, chiara, chiara.